La viceministra Bellanova però ricorda anche che il reddito di cittadinanza è frutto del lavoro giallo-verde, del governo giallo-verde, quindi anche del governo voluto da Salvini. A loro accade spesso, diciamo, di rinnegare l'operato di quel governo, però noi invece che abbiamo una buona memoria ci ricordiamo che il reddito di cittadinanza è nato proprio in quella fase. Noi siamo molto critici sul funzionamento di questo strumento e i dati in qualche modo confermano che le nostre critiche sono fondate, quindi chiediamo un'azione coraggiosa, se è possibile addirittura il sostanziale smantellamento di quello strumento per pensarne uno completamente nuovo, che naturalmente vada a incidere nei momenti di difficoltà delle persone, immaginando degli strumenti di sostegno quando appunto una persona perde il lavoro oppure è in difficoltà di carattere economica, però come dire che riveda tutta una serie di questioni, per esempio il fatto che non sta funzionando il tema dell'incrocio tra la domanda e l'offerta, il sistema appunto dei controlli e quindi noi abbiamo bisogno davvero su questo punto di un'azione coraggiosa.